ORIYUKUN Ciao a tutti amici, io sono KeikoCraft Ed oggi siamo su... Spielberg Super Simulator Questo gioco sta dando di voda E ora non ci sono tornato anch'io di Aspettate Adesso provate Non fateci caso Io scrivo minchiate Io scrivo titoli a random In questo gioco Solo per... A me a quanto pare se il gioco sia molto fluido Che i 30 del gioco sono alzati Bene, qui si può anche cambiare le stanze C'è opzioni Vedete i trofei? Ovvero le mie storie Di bene il meglio Di bene il meglio Che più vuoi fare con l'HCM HCM Oh Oh Yeeey Facciamo un titolo ignorante Spettiamo la cazzotti Bene Bene guardate Io ho dei video in questo gioco Faccio titoli ignoranti Perchè mi diverto Faccio molti bigliettoni E andiamo qui Il nuovo microfono Prendiamo il nuovo microfono Più c'è Più figo Oddio dobbiamo giocare a Pagli Giochiamo A Pagli Pagli quel ca Pagli quel ca Io ci ho giocato a Pagli Oh ed è molto più attento Pagli che io su super strike scrivo sempre video io con titoli ignoranti spero che io su youtube non li faccio guardate il mio video da WV poi spaccheremo gli schizzi che ho fatto spaccheremo gli schizzi e dopo hehehehe bene ho più iscritti sta qui lo sponsor mi sta aiutando guardate la posizione posso anche superare grazie a questo gioco ho conosciuto il super che non conoscevo bene abiettivo sbloccato vai guardiamo al cane 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 il cane mi farà ridurre il tempo è caduto vabbè guardate in pochi secondi riuscirono ad avere il nuovo oggetto il nuovo oggetto guardate bam vedrà pugni ed è fatta guardate guardate dovete io aspetto molti iscritti guardate io intanto su questo gioco ci ho giocato prima ed è molto divertente vedrà il gioco i aspetto di oggi vedrà il gioco Grazie a tutti.